Raffa Enjoy, ce lo regali un sorriso? Ci vogliono le mani se lo stai ascoltando? Speciale coppia perfetta! Enjoy! E musica e magia, vi porteranno via! Ilaria, ma come stai? Ad Andreino sì, eh? Egregio! Tre sono i fiorellini, Andreino, Dado, Alex, San Donato Ciao Pets! Il matto Valenza! Tra l'89 Savona e i ragazzi di fronte, sempre insieme Francesca ti amo, Fabio da Savona, l'amore esiste, anche qui Andrea Giuretto sotto i shock Gaias è speciale, vai Pets! Borga e Nico, poi l'histo Pippo, Gris, Ale, Andre Fabio, Andre sotto i shock Ivan Fabio per sempre presenti Grazie a tutti!